e ciao a tutti ragazzi bentornati sul nostro canale eccoci qui con una nuovissima mega house per voi ma per me già da un bel po' solo che non ho avuto modo di unboxarla prima questa è la P.O.P. Neo Maximum di Edward Newgate ovvero barba bianca, white beard che dire ragazzi non perdiamo altro tempo andiamocelo subito ad unboxare grazie a tutti 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 dal mondo di One Piece Excellent Model Limited Edition e noi ci rivediamo al prossimo video